Abbiamo con noi Andrea Falzon, presidente di Renasfo. L'associazione Renasfo parteciperà alla undicesima edizione di Farmacista Più che si terrà dal 7 al 9 novembre 2024. Dottor Falzon, qual è il valore del dibattito che si svolgerà nel corso di Farmacista Più e quale sarà il contributo di Renasfo alla discussione? Allora innanzitutto Farmacista Più rappresenta un momento di alto confronto e riflessione su quello che è il percorso che come categoria stiamo intraprendendo ma soprattutto anche per capire a che punto ci troviamo esattamente di questo percorso. Siamo davvero orgogliosi che Renasfo sia stata invitata per la prima volta come protagonista a questo prestigioso evento e devo dire che il nostro obiettivo è davvero ambizioso. Vogliamo mettere in evidenza il ruolo di eccellenza dello specializzando in farmacia ospedaliera. Una figura chiave nell'evoluzione del ruolo del farmacista all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Spesso infatti gli specializzanti in farmacia ospedaliera sono i protagonisti o comunque il cuore pulsante di tanti progetti scientifici che generano valore per la professione attraverso il loro atto professionale e promuovendo anche l'innovazione nella pratica con l'aiuto e il supporto dei colleghi strutturati. Gli specializzanti in farmacia ospedaliera sono una vera eccellenza italiana e questo come contributo va riconosciuto. Sentono il motore d'altronde di quello che vogliamo tanto vedere come cambiamento all'interno del sistema sanitario per il rilancio della sanità. Ecco, Renasfo in questa undicesima edizione di Farmacista Più 2024 vuole raggiungere questo obiettivo mettendo in luce quello che finora è stato fatto, quello che ancora c'è da fare. D'altronde come disse l'allora presidente di una nota azienda multinazionale, the future belongs to the discontented. In altre parole, dobbiamo essere fieri di quello che è stato finora fatto, al tempo stesso dobbiamo essere consapevoli che molto ancora può essere realizzato. Dobbiamo quindi lavorare incessantemente sul presente per costruire un futuro migliore, un futuro all'altezza della nostra categoria professionale. Come presidente Renasfo ci tengo davvero ad esprimere il mio apprezzamento e ringraziare gli organizzatori di Farmacista Più e i presidenti delle associazioni che hanno reso possibile questo momento di alto confronto professionale. L'appuntamento con noi sarà sabato 9 novembre dalle ore 9.30. A presto! Grazie a tutti!